Musica Ehi, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo tornati qui su Brossass E' finito il mega salvadonaio Però è andato una schifezza Perché ho provato tutta la nonostante E' più che tutti rare e super rare Quindi oggi siamo qui Per farci una partita Facciamo una bella footbrot candidata del giorno Per provare a prendere il doppio stop Visto che c'è ancora quell'evento in corso Diciamo dei pollici in su E quindi speriamo di trovare almeno lì O un epico o un mitico Oppure se ci scappa un bel leggendario Che rica il mega salvadonaio Noi l'abbiamo completato E si vince infatti 20 stop dopo Purtroppo non ho preso quelli bonus Visto che comunque Diciamo non sono arrivato tra Non ho fatto tante vittorie Ma vabbè questi sono dettagli Vorrei ricaricarmi Mi sa ulti se riesco Ok Ecco almeno rotto Goal Ok 1-0 So E' un ucciso E' un ucciso Vabbè Tanto vedo che Mi stanno facendo delle belle giocate Mi ch'ho appena detto Che stanno Bella questa accegata Signori Non so Non so come ho fatto A schivare Quel gadget Però almeno Ce l'ho fatta Siamo pure Inbiori Cioè guardate là pure Quante Quante missioni stavo completando Ok Già un epico E ci può stare E' un super raro Così Ma Vi devo dire Non è che ci sta Chissà quanto Però Ecco Quindi è inutile Proprio Se facciamo un'altra partita Quindi raga Credo di sperare Questo video vi sia piaciuto Lasciate un like E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Bella raga Ciao